Oggi se in altre partite, nelle ultime partite gli avevo fatto i complimenti, sicuramente oggi abbiamo sbagliato l'approccio e quando sbagli l'approccio poi dura a modificarsi durante la partita. Nonostante tutto i golli abbiamo subito su due calci di rigore e comunque delle occasioni le abbiamo create, però abbiamo giocato senza la cattiveria e senza quella voglia e determinazione che servono a volte per far sì che le cose girino nel modo giusto. Adesso è che siamo comunque contati e per cui non è che c'è la possibilità di fare tantissime scelte, adesso vediamo da qua, prossime partite, chi avrò a disposizione e sicuramente mi interessa vedere più giocatori possibili. Colgo l'occasione per fare gli auguri di Buona Pasqua a tutti, a tutti i tifosi e oltre a tutti i giocatori e alle famiglie. Buona Pasqua e ci rivediamo poi la prossima settimana per spendere le ultime energie che abbiamo in corpo.